Scusate se vi preparo... Scusate se vi preparo più di 300.000 uomini e uomini sono abbandonati, siamo qui per dire alle persone italiane, per favore salvare gli animali, non abbandonare i uomini e i uomini. Scusate se vi preparo... Scusate se vi preparo... ...e i uomini non possono prendere loro, quindi abbiamo una responsabilità, dobbiamo prendere loro e cuore loro. Questo è estremamente importante, questo è un soggetto quando le persone vanno a vacanza. E dove si viscono tutti gli animali tutti i giorni? Sono un figlio, sono il migliore amico di un uomini, di un uomini. Non mi lasci essere misurato. Scusate se vi preparo... ...comunali, regionali che prevedono gli animali. E' vergognoso che in Italia vengano ancora abbandonati centinaia di migliaia di piagge che accettano i nostri amici a quattro zampe. Sono ancora abbandonati...